Musica Alessio un evento a Varese di fianco al palazzetto del ghiaccio lo volevi e c'è Sì sono proprio contento abbiamo abbinato il logo del Loki Varese che è il Mastino che è un Bulldog loro si chiamano i Mastini con il nostro marchio Happy Dog per creare un evento per tutti i tifosi del Loki che hanno speriamo un cane e oggi si sono presentati in abbastanza per creare questo bellissimo evento Musica Com'è questo abbinamento tra il Loki e Happy Dog? L'abbinamento è giusto, perfetto perché il nostro simbolo è proprio un cane Happy Dog si rivolge a questo mondo e quindi la cosa è stata praticamente naturale Ma negli anni passati eri un Mastino o no? Sì sono stato Mastino, diversi anni fa però ormai sono i 30 anni che sono in questo mondo 20 li ho giocati e poi sono passato da questa parte, dalla dirigenza Dietro la scrivedia? Sì che si soffre molto di più perché non si può giocare e gli impegni sono diversi Musica Diciamo subito che è finta, te l'ho subito chiesto perché sei, esatto, fintissima Vanity Pets, insomma stando bene? Sta andando bene, è il primo magazine online dedicato esclusivamente ai cani Chiaramente ai padroni che lo leggono Siamo partiti un anno fa e stiamo avendo un discreto successo Infatti ho visto che avete messo anche qualcosina sull'Italia di Arturo Viaggia, bisogna sapere dove i nostri amici a quattro zampe devono andare Dove sono i benvenuti, come vengono accolti per trascorrere una vacanza serenamente tutti insieme Perché se non sta bene il cane la vacanza è rovinata in partenza Esatto, quindi abbiamo lavorato bene noi? Benissimo, viva Arturo Tim, dem, tem, come si pronuncia? L'hai pronunciato giusto prima, tim Perché io lavoro, sono una squadra insieme ai miei cani Non lavoro mai da sola E quindi ecco da dove arriva Io mi chiamo Teodora, detta Thea E quindi è nato poi Tim Quanto è difficile addestrarlo un cane? Ma dipende quanto è difficile avere a che fare col proprietario Nel senso che parte tanto lavoro, parte prima dal proprietario e poi dal cane Perché i cani sono molto collaborativi, non sbagliano mai Io come sono andato prima, sincera, sincera No, bene bene bene, sei andato benissimo Infatti Arturo ha fatto tutto, grazie al tuo aiuto Ragazzi, prossimo appuntamento sempre qui su Canegati TV Channel Ci vediamo alla prossima puntata Ciao